8 e 50 ben tornati su crystal radio bentornati perché soprattutto abbiamo un grande ospite in collegamento con noi lei dice figlia di loredana io sono figlio degli anni 80 quindi per me il coach dan peterson è un'istituzione della mia vita buongiorno a dan peterson buongiorno amici sportivi buongiorno a tutti coach a sentirli dire buongiorno amici sportivi è da pelle d'oca quindi grazie davvero per aver accettato il nostro invito l'abbiamo chiamata perché è stato proposto come ambrogino d'oro finalmente la città di milano si accorta della sua importanza cosa dice coach innanzitutto essere proposto vuol dire candidato non è detto che vincerò o non vincerò mettere le mani avanti come si dice si entra papa e si esce cardinale quindi è esatto fino oggi sono cardinale ok quindi vediamo se se dopo viene fuori qualcosa piacere vado lì a sabato vediamo cosa succede quindi molto gentile parte loro di di non dimenticare coach lei l'ha scoperto come noi ieri o era stato avvisato più o meno da voi ok perché io pensavo che fosse una cena e io non poi mio manager mi fa tutto ok andiamo a Varese quindi non vado a approfondire che di che cosa si tratta anzi mia moglie si rabia con me perché dico come mai vai a Varese e dico ma non so mi vogliono fare una cena ma perché sei quindi sono pessimo in questo a informare informare la gente però adesso prima la vostra email è stata veramente il primo whatsapp è stata prima avvisagio ah bene bene ma quindi insomma che emozione ha provato quando ha saputo il punto di essere tra i candidati e continuiamo a ripetere candidati così facciamo un po di scongiuri nel senso meglio ok ma ovviamente sì riconoscimento una persona nella mia situazione non pensa almeno penso io non pensa alla gratificazione personale ma il fatto di essere riconosciuto per un buon lavoro qualcosa così che il suo lavoro è stato apprezzato ok come il giocatore che viene è applaudito da dei tifosi eccetera quindi è un riconoscimento c'è proprio è una soddisfazione non non è una cosa da vantarsi c'è proprio è una soddisfazione molto ma molto interna chiarissimo chiarissimo coach è un grande anno per lei insomma questa presentazione poi abbiamo avuto abbiamo visto l'ultimo suo compleanno è stato un compleanno importante no con tutto un palazzetto che l'ha applaudita non è stato il compleanno 9 gennaio il palazzetto palazzo è stato 2 aprile che hanno ritirato il mio numero 36 perché sono nato nel 36 ok e allora e coincidentalmente anche magari non c'è una documentazione precisa ma la storia dice che io e l'olimpia siamo nati lo stesso giorno 9 gennaio del 36 ok e quindi qualcuno dice beh non abbiamo la prova concreta ok io so che quando sono arrivato Boguncelli tanto per dire mi ha detto Peterson la società è nata proprio come è nata lei il 9 gennaio del 36 quindi se me lo dici Boguncelli mi basta così è la certificazione per quanto non voglio non non vorrei andare in giro a dire io sono nato però coincidente questo è il collegamento con il compleanno e il numero 36 che 2 aprile l'olimpia mi ha riterato il numero è un grande onore e ringrazio loro ancora per quel poco che valiamo anche noi diciamo Don Peterson e l'olimpia Milano sono nati lo stesso giorno non diciamo così diciamo Boguncelli quindi possiamo dire anche noi coach prima di salutarla voglio fare una domanda quanti anni è che ormai è a Milano lei 45 anni perché sono venuto nel 78 stanno 45 anni chiaro e le piace ancora stare qui ovviamente Milano è molto cambiata come sappiamo tutti noi ok molto 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 diverso per diverse cose però io sto bene qui ok c'è Milano è casa è difficile rinunciare ma ho vissuto più anni a Milano che tutte le altre poste della mia vita insieme anche mia moglie che è metà francese nata a Como metà italiana metà francese anche lei poi lei ha perso padre quando aveva due anni e mezzo e quindi con la mamma che è milanese sono venuta a Milano quindi anche lei si sente molto molto milanese perfetto perfetto coach allora grazie al milanesissimo Dan Peterson grazie mille davvero e non diciamo non dico niente non dico in bocca niente non dico buona niente magari ci risentiamo magari ci risentiamo la mamma butta la pasta anche se ora è la colazione ok perfetto perfetto allora come diceva lui numero uno ok va bene ciao ragazzi grazie coach grazie mille al coach grazie mille al coach Dan Peterson